Dottor Agostini, Fabrizio Volpini ha mandato un messaggio molto chiaro tramite stampa, la situazione nelle Marche è tranquilla. Io ringrazio Volpini perché il Dottor Volpini è molto attento su queste tematiche e mi fa piacere che sia intervenuto come Presidente della Quarta Commissione della Sanità delle Marche perché in effetti si è creato parecchio allarmismo, noi abbiamo numerose telefonate, persone che arrivano in ambulatorio per chiedere di fare una vaccinazione, di fatto per voi in questo momento non c'è nessun caso di meningite, nelle Marche attualmente non sono registrate neanche sospetti di meningite, meningite è una malattia fortunatamente per quanto molto grave, perché può essere anche mortale, ma è una malattia fortunatamente rara, quindi questo è il presupposto fondamentale su cui dobbiamo partire. Sono contento dalla parte che ci sia questo ritorno, questa affezione nei confronti delle vaccinazioni perché in effetti anche questo episodio di casi un po' più elevati che si sono registrati in Toscana sta determinando un ritorno anche alle vaccinazioni. Quello che trovo strano per esempio è che ci sono genitori che chiedono di fare la vaccinazione contro il meningococco mentre non hanno fatto altre vaccinazioni, per cui questo è sintomatico di come la paura, l'ansia nei confronti di una malattia che è tangibile perché in questo momento sta provocando dei casi e anche dei casi mortali, come sia importante il ricorso alla vaccinazione, ma la vaccinazione deve essere fatta quando in realtà uno viene chiamato rispetto a quelli che sono i calendari che sono previsti per le vaccinazioni, poi invece nelle situazioni di questo tipo è chiaro che si crea invece l'allarmismo, la corsa, se invece uno programma la propria attività vaccinale così come noi facciamo, uno si ritrova ad essere coperto nei confronti delle malattie senza bisogno di correre e prendersi delle ansie in eccesso. Quali sono le tipologie di meningite che si possono verificare e quali sono i vaccini più appropriati per combatterla? Dunque la meningite, se si parla di meningite, noi abbiamo in Italia soprattutto, ci sono due sierotipi di meningococco che circolano, che sono il meningococco di tipo C e il meningococco di tipo B, poi ci sono altre forme di sierotipi che sono molto più rari in Italia, che sono frequenti in altri paesi come in Africa, come può essere il W125, l'Y e l'A, che sono dei ceppi molto più rari qui da noi. Allora diciamo che i tipi di vaccinazioni che ci sono per questo tipo di meningite da meningococco sono per tutti i tipi, nel senso che noi possiamo fare il meningococco C, poi recentemente, da qualche anno è uscito la vaccinazione contro il meningococco B e poi abbiamo il quadrivalente, cioè quello che copre sia il C, il W, l'Y e l'A. La strategia può essere questa, intanto noi per quanto riguarda la vaccinazione per il meningococco C, i bambini vengono chiamati, vengono vaccinati in età infantile, intorno all'anno vengono chiamati e si fa la vaccinazione per il meningococco C. Il meningococco B è anche questo indicato come vaccinazione, attualmente nell'offerta vaccinale della regione Marche il meningococco B non è offerto gratuitamente e diciamo così si pagano le spese, chi vuole fare deve pagare le spese del vaccino, potrebbe rientrare nei prossimi mesi anche questo tra le offerte fatte dalla regione Marche, l'altro vaccino il quadrivalente che è indicato soprattutto per soggetti particolarmente a rischio, potrebbe diventare una strategia per esempio consigliata per gli adolescenti, cioè chi ha fatto il meningococco C da bambino in età adolescenziale potrebbe fare il quadrivalente che lo protegge anche per gli altri tre tipi, quindi questa può essere la strategia per il meningococco. Poi la meningite è dovuta anche da altri tipi di microorganismi, il pneumococco può dare anche una meningite, abbiamo l'hemophilus influenzae che può dare una meningite, ma sono anche questi microorganismi per cui c'è già la vaccinazione e si fa nell'infanzia, quindi basta farla. Come possiamo leggere dal punto di vista sociale ed emotivo anche questa corsa ai vaccini che si sta verificando in queste ore? Io dico che intanto non ci sarebbe stata la corsa se tutti avessero provveduto a vaccinarsi quando era ora, nel senso che noi chiamiamo il meningococco C, fa parte del calendario vaccinale delle Marche, per cui nel momento in cui uno veniva chiamato per fare la vaccinazione se l'avesse già fatta a questo punto non aveva tutta quest'ansia. Quindi per carità benvenga questo ricorso alla vaccinazione, quello che è sintomatico è il fatto che per riconoscere la validità di questo strumento ci deve essere una malattia, quando la malattia non si vede la gente non si spaventa e quindi dice non serve la vaccinazione, invece la vaccinazione se no, perché facciamo l'esempio della poliomelite, se si abbassa notevolmente la copertura vaccinale della poliomelite si possono verificare ancora dei casi, perché la poliomelite sta circolando, ci sono stati episodi, pensate a situazioni di estremo disagio come in guerra e come in Siria, ci sono stati episodi anche in Israele, il problema della poliomelite ancora esiste, tant'è che è una delle patologie che se si abbassano le coperture in maniera significativa potrebbe anche rientrare. Pensate alle vaccinazioni, io ho gente che viene qua a chiedere la vaccinazione per il meningococco e non ha fatto morbillo, rosolie e parutite, che sono vaccinazioni che si pensava di poter con la vaccinazione eradicare la malattia, se si raggiungessero delle coperture sopra il 95%, una delle ambizioni, delle obiettive era di far ridurre fino a quasi scomparire il morbillo, stessa cosa per la poliomelite, l'ambizione fino a qualche tempo fa era quella di riuscire a farla scomparire, non è facile, però di fatto l'Italia era considerata libera da questi tipi, soprattutto per la poliomelite libera, però sta di fatto che se si abbassano le coperture questa può tornare, quindi quello che è assurdo è che ci deve essere la malattia per ricorrere alla vaccinazione, mentre il fatto che la vaccinazione abbia in qualche modo controllato malattia fino a non avere più casi in Italia, è considerato come dire, allora non serve più vaccinarsi, si è l'unico strumento, è uno strumento validissimo, sicuro, la scienza ci ha fornito questo strumento che è importantissimo.